Perché Tiresia? Ma è nata spontaneamente, probabilmente perché la cecità di Tiresia attraverso la cecità, malgrado la cecità, egli riesce a vedere non solo il presente ma anche il futuro. Ecco, io ero nella mia nuova situazione di cieco e quindi ho avuto un'illuminazione. Siccome sostengo, ed è vero, e non è un paradosso, che da quando ho perso la vista, vedo le cose più chiaramente, beh, ho detto, un personaggio che potrei affrontare proprio per questa manomazione e attraverso la manomazione è proprio Tiresia. Questo è stato l'impulso.